Mixology Experience 2024, siamo in compagnia di Davide Monorchio, Spirits Manager di Pellegrini, buongiorno. Ciao cara. Dunque, ci vuole un po' illustrare appunto questi prodotti, le lascio la parola. Grazie. Dunque, noi siamo qui ma non solo con questa parte ma anche con l'altra parte, con Essenza Mediterranea che produce Amaro Eroico, che produce Vermouth, Bitter, che produce le esili di liquirizia. Da questa parte abbiamo separato lo stand per presentare ciò che più si avvicina al mondo della Mixology nel catalogo Pellegrini, che sono i nostri Elisir, barbaturico e baffotonico, con vin pepato, i nostri rum, la novità, il mescal che abbiamo inserito l'anno scorso, una piccola distilleria di Oksaka, l'Okita, è arrivato anche il gin dal Giappone, perché l'azienda che distribuiamo in Italia, Kyoto Miyako, ha incominciato a fare una piccolissima produzione di gin e presentiamo anche un'anteprima assoluta, il primo rum bianco, da agricoltura sostenibile e dal packaging completamente innovativo, perché la bottiglia è di carta, quindi è completamente riciclabile. Perfetto, in merito appunto a questo packaging, parliamo sempre di riciclabilità, sostenibilità, la sua azienda appunto si sta muovendo anche in quella direzione? Sì, sì, questo è un argomento che ci tocca da vicino, perché ormai si cerca di avvicinarsi anche alla distribuzione da un punto di vista etico e questo coinvolge soprattutto i nostri produttori vinicoli, anche per esempio alcuni produttori come Coval, che abbiamo qui, hanno un approccio piuttosto etico alla produzione, scegliendo solo cereali biologici da contadini dello stato dell'Illinois, quindi con un approvvigionamento delle materie prime molto attento. La stessa Belisian Blue, che è prodotta dalla Travelers, questa bottiglia pensa all'interno un'anima in waterby, completamente riciclabile nell'umido, la parte esterna è in carta, ma in carta riciclata, e il tappo è in alluminio, anch'esso riciclato, quindi quando si finisce il prodotto ogni pezzo di questa bottiglia ha il suo riutilizzo.